Un caffè Un caffè Arrivazione Grazie. Sono un po' forbianti questi cartelli, sono da leggere, se leggi è giusto, però è una truffa, è una piccola truffa perché questo lato qua, questo 50%, avete a pensare che tutto questo lato qua è il 50%, invece no, c'è la beffa perché uno acquista quello e lo paga 8 euro invece che 5,50, quindi tu stai rubando questi paoli da casa. Dove è andata, quale è la presentazione? Vorrebbe andare la presentazione di un libro di Tommaso Campanella. Ma? Ma? Io lo sconsiglio perché ti ha sbaglio. No, ce lo fai io? No, no, sono concentrato, fammi giocare. Un film con il sacchetto. Di chi ci parlavi? No, così è costruita, non ci piace. Allora, quest'ultimo stavo vedendo un film con Paolo Villaggio che non è fantastico. Ci hanno dato una fila. Ah vabbè. che non mi ricordo il titolo. Chiediamo di riparare! Non mi ricordo il titolo! Un toilet! Un successo. Un po' è successo essere che però che accoglienza, eh? Sì, ma che c'è roba! Ok, un cliente me l'ha scelto, però io questi prezzi mi fanno scelto. 15,50? 5 euro. Questo lo dà a 5 euro. Che data vediamo? Umberto Tozzi? No, vediamo Umberto Tozzi, presentazione del libro Umberto Tozzi, dal titolo Gloria. Ma che palle, ma perché nessuno vuole essere filmato? Gianluca è l'unico che non fa problemi. Sto filmando di vittura. Grazie. 155, 160, 160, 160, 160, 160, 180? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti